Buongiorno Katia, buongiorno a tutti quanti. Allora, sto preparando delle interviste con dei miei clienti Real per far capire un po' come funziona qui e la soddisfazione o non soddisfazione dei miei clienti. Da quanto tempo ci conosciamo, Katia? Dal 2017, sei anni ormai. Oggi tanto? Sì. Non ci sei stancata ancora? No, no, ti vedi non sarei qua. Allora, che tipo di servizi usufruisci qui nel centro? Così magari spieghiamo un po' anche che cosa faccio qua. Sì, Martina, va bene, lei ha il prezzo di non fare mai lezioni uguali l'una all'altra da quando la conosco. È difficile che io abbia fatto mai le stesse cose o forse me le dimentico, probabile anche. Un po' di azione. E quindi io vengo più o meno, se ci riesco, tre volte alla settimana e lui le divide le lezioni. Il lunedì fa Pilates, diciamo, più o meno tradizionale. Il mercoledì un funzionale, quindi qualcosa un po' più di movimentato. E il venerdì l'utilizzo dei props, che sono degli strumenti… Sono tipici del Pilates. Del Pilates. E questo è quanto. E tu, vabbè, io lo so, Katia fa anche lezioni online, le ha fatte durante la pandemia, ma ha continuato anche quest'inverno. Quindi io ti chiederei, Katia, è ovvio che venire in sala ha il beneficio, insomma, di stare con altre persone in compagnia. Però tu hai trovato dei benefici anche sulle lezioni online. Nel senso, ti piacciono? Per quale motivo? Allora, mi piace innanzitutto perché me li posso gestire con i miei tempi. E quando magari si esce da lavoro, si hanno i minuti contati, non hai tempo di cambiarti, riuscire o non ne hai voglia, accendi il computer e segui la lezione come se fossi in sala. Quindi se uno ha la volontà di fare la lezione da casa, si può fare tranquillamente, senza nessun tipo di limite. Nel senso che tu segui comunque, hai l'immagine dell'istruttrice che ti segue, lei ti guarda, tu segui le, vedi i movimenti e quindi va benissimo comunque. Ed è anche una valida alternativa anche a chi viene in sala, se qualche volta non può, utilizzare lo strumento online. Questa possibilità è utile. Penso che per le donne che lavorano, ecco, il servizio online è rimasto attivo proprio perché io ho un pubblico prevalentemente femminile e donne che comunque hanno una famiglia, hanno un lavoro. Quindi ho pensato che potesse essere utile a chi magari deve gestire una famiglia, deve gestire una cena, deve gestire dei figli, poter dare la possibilità di avere dei tempi un po' più limitati. Magari per trovare parcheggio ci si mette molto, per spostarsi ci si mette molto. Ma a volte sta piovendo, allora sei pigra e dici, madonna, devo uscire, mi devo cambiare, devo andare. Allora invece no, così sei in casa e non hai neanche più questo problema. Loro fanno così, mettono sulla cena e poi mi dicono, attendi un attimo che la do, la spegne. Vabbè però è un'alternativa. È utile, diciamo che poi è finita la lezione e la cena è pronta. Esatto, ma l'importante è fare sempre qualcosa, quello è l'importante. Tu ora stai frequentando in studio per il periodo estivo, però pensi che frequenterai ancora le lezioni online durante l'inverno? Allora io conto di rimanere in studio perché poi comunque io amo parlare con le persone, confrontarmi e quant'altro, però la versione online la tengo sempre di riserva perché può anche per alcuni periodi o per eventuali esigenze di poterla magari integrare, fare un po' e un po'. Penso che mi regolerò in questa maniera. L'abbonamento consente entrambi i servizi, quindi hai la possibilità. L'altro servizio che io do ai clienti sono le lezioni registrate. Tu non mi ricordo le hai mai provate? Forse l'ho vista qualche volta, però essendo assidua frequentatrice, però conosco persone che per magari problemi di gestione familiare non riescono a combaciare gli orari dell'elezione. Abbiamo una nostra amica Antonietta e lei utilizza tanto le registrate perché magari inizia, poi il figlio vuole essere accompagnato, la blocca, poi riparte, però è anche quella una valida alternativa quando uno ha voglia di fare qualcosa, anche che ne so, durante le vacanze e quant'altro, si può seguire una lezione del genere. Va bene, ti ringrazio tanto, un abbraccione e ci vediamo a lezione. Io sto andando via per le ferie. Un abbraccio è giusto, perché se non ci fa lavorare sempre. Ciao a tutti. Ciao.